ragazzi mi raccomando condividete i consigli su whatsapp ai 5 vostri amici anche in un gruppo molto importante fate iscrivervi ai vostri amici con campanellina e anche lo descrivete nei commenti vengo da il vostro link ragazzi molto molto importante un'altra cosa ragazzi attivate i sottotitoli ciao leute i sono Mr.Nila e oggi è un nuovo video in fortnite oggi sono un italiano e oggi faccio un video che ho ho fatto in cui ho ho fatto in mei fans ho ho fatto che ho fatto in mei 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 la chiara lascia e che vi fanno in 5 ore da forza e che si mi sono anche in questo video e ringe e like e abonniere il canale e stanno oggi nemmo il skin e skin e lo buono scuro e ma bisogna in questo Geschäft, su supporto e creato e poi il codice RTP, rettino bassa e rettino dillano e questo è molto importante e ora vediamo in un gioco, ma non in un gioco, ma in un gioco nel modulo devo in un gioco e poi in un gioco e poi prendere le 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 e poi lo scopo non lo so Noi 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 Ha du bist so dumm Hast du dir auch nicht besser verdient Gut Gut Jetzt hole ich mir was zum heilen wieder Typisch von Ok das ist das erste Spiel geht gut so das passt Ok jetzt bin ich wieder hier in der Lobby Schauen wir mal wie das zweite Spiel jetzt abläuft Ich weiß nicht ob ich zwei oder drei Spiele mache und das werden wir jetzt gleich Ich hab's im ersten Spiel ist es gut gegangen Jetzt geh ich nicht hier Jetzt geh ich in den Park da 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 Nach Hütter da Bitte lasst ein Like in dieses Video und ein Abo und kommen wir in dieses Video auf 50 Likes Das ist ganz ganz wichtig Wir haben jetzt schon 3.383 Abonnenten Das ist ganz gut Und ich kann mir Tut das Video auf in für viele Abonnenten auf 3.400 Abonnenten Wir sind jetzt hier aber das geht Hier ist eine Kiste Das passt Ich werde mich getroffen Abonnenten 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 Ho già già un kill, ma non è ancora più lungo. Ma cosa che ho fatto adesso? Ha il giocato gli occhi? O è il giocato? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.